Ciao, sono Giorgio Magni, sto coordinando il tavolo su sport e carcere. In questo momento la discussione è abbastanza animata perché siamo arrivati a toccare i problemi che riscontrano le nostre società all'interno della struttura. Quindi con le istituzioni che abbiamo presenti al tavolo, come il CONI e come i CISI nazionali, stiamo cercando di provare a capire come mai ci sono così tante difficoltà e unire l'esperienza delle nostre società, l'esperienza delle istituzioni e l'esperienza di chi fa volontariato interno. Speriamo di trovare una quadra più presto.